Salve e benvenuti. Questo è l'M12FPXP Milwaukee, che significa espansore fuel per tubi, il nostro primo espansore senza spazzole sulla piattaforma M12. Può espandere i tubi fino a 32 mm e, insieme alle nuovissime teste con chiusura rapida, fornisce molte funzioni che vi consentono di eseguire le installazioni più rapidamente e più facilmente. Andiamo subito a vedere le caratteristiche dell'utensile. In sistemi a 6 bar, l'utensile espande tubi fino a 32 mm e fino a 25 mm in sistemi a 10 bar. Grazie alla tecnologia Fuel e al suo motore Brushless Power State, consente di espandere i tubi molto più rapidamente. Per esempio, un tubo da 25 mm a 6 bar può essere espanso oltre 7 secondi più rapidamente rispetto all'attuale espansore per tubi con le spazzole. Assieme alle nuove teste con chiusura rapida M12, sviluppate appositamente per il nuovo espansore Fuel, potete terminare il lavoro ancora più rapidamente perché il tempo per sigillare migliora del 20% o più a seconda della temperatura dell'ambiente. Le nuove teste sono disponibili da 9,9 fino a 32 mm, con il vantaggio addizionale che tutte le attuali teste M12 restano compatibili con questo utensile. Il nuovo espansore M12 Fuel è dotato della tecnologia brevettata Milwaukee di rotazione automatica. Questa funzione ruota automaticamente la testa durante un ciclo di espansione per espansioni sempre costanti, fornendo pertanto la base migliore per una connessione di lunga durata. Un aspetto molto importante è la maneggevolezza migliorata e la facilità d'uso che l'M12FPXP riesce ad ottenere grazie all'interruttore a doppiazione. Potete azionare l'utensile da qualunque posizione della presa, il che è particolarmente importante in spazi ristretti, dove non potete tenere l'utensile normalmente. Il design AL vi consente di usarlo in spazi ristretti, grazie alla lunghezza ridotta, ed è dotato di una potente luce di lavoro a LED per aiutarvi a vedere chiaramente in aree oscure. Inoltre ha una testa rigida per resistere ad ambienti di lavoro difficili. L'M12FPXP è stato sviluppato in collaborazione con Uponor ed è stato testato e approvato per l'uso con il sistema Uponor Q ed E. Questa collaborazione ha dato origine a prestazioni di installazioni eccezionali che creano condotti di alta qualità e duraturi. Grazie dell'attenzione e vi auguro buon lavoro con Milwaukee.